Ciao amici, oggi vi parlo del nostro hotel a Miami. Vi presento la piscina, è molto grande, con tante sdraio super comode, complete di materassini e ombrelloni. Nella hall c'è di tutto, un calcio balilla, diverse sedie, una sala riunioni perfetta per lavorare al pc, una macchinetta per le bibite fresche e due divani morbidissimi, li ho provati. La zona relax offre anche un sacco di libri a disposizione, l'unica pecca è che dentro la hall fa davvero freddo, tanto che bisogna indossare una felpa. La nostra camera da letto è spaziosa e accogliente, con un divano, una cassettiera, un letto king size, una poltroncina, un tappeto carinissimo e un bagno in puro stile americano. Ma la vera chicca di questo hotel, considerando i costi di Miami, è la cucina a disposizione dei clienti. Possiamo utilizzare le pentole e conservare il nostro cibo in buste etichettate con il numero della stanza nel frigorifero comune. Ci sono dei prodotti comuni che tutti possono utilizzare e l'importante è che ognuno dopo aver finito di utilizzare la cucina, le pentole, lavi quello che ha sporcato. Guardate che bella la luce del mattino, semplicemente perfetta. Ah, e non posso dimenticare di mostrarvi il gatto che vive qui in hotel.